Il dolore della figlia, i funerali di Maria, la giovane arrivata dal Brasile per partecipare al rito funebre per la vittima del femminicidio di Fornaci, in chiesa una rappresentanza dei sindaci della valle. Strade e piazze off-limits per il set di Dustin Hoffman, conferenza dei servizi al lavoro per stabilire la logistica delle riprese per il film di Greenway, che partiranno l'ultima settimana di marzo. Antenne scoppia la protesta anche a Montuolo, residenti sul piede di guerra contro il nuovo ripetitore telefonico in via dei Bozzi, è troppo vicino alle abitazioni e nessuno ci ha avvertito. Il calcio, la lucchese rivede i play-off, ma occhio all'entella, la vittoria sull'Olvia firmata di Santo ha sistemato la classifica e rilancia le ambizioni rossonere, venerdì sera trasferta a Chiavari su un campo tradizionalmente ostico. Lucca in rosso alla finale regionale del 31esimo torneo CEFA, la giovane formazione del Lucca Academy ha vinto il Girone Verde battendo in finale la Pontremolese e raggiunge così l'Etrusca San Mignac. Ben trovati con l'informazione del nostro telegiornale, dunque l'edizione dedicata a Lucca, Valle del Serchio e partiamo da Fornaci di Barga dove è stato il giorno del dolore. L'ultimo saluto a Maria Ferreira, la donna vittima del brutale femminicidio, la commozione di un'intera comunità, la partecipazione dei sindaci della Valle, ma anche le parole di dolore ai nostri microfoni della figlia arrivata dal Brasile per l'ultimo saluto alla madre. Partiamo da qui al servizio di Luca Galeotti. Una chiesa che non si è riempita come ci si sarebbe aspettati dopo quello che è successo, ma una chiesa comunque con tanta gente che non ha rinunciato a rendere l'ultimo saluto a Maria e da stringersi attorno al dolore della figlia Giannini, dell'amica Evaneige e di tutti coloro che hanno conosciuto e voluto bene a Maria. Loro sì, c'erano tutti. Siamo di fronte al mistero del male, più che mai oggi che siamo qui a piangere Maria, ha detto nell'Omelia Don Giovanni Cartoni che ha celebrato la Santa Messa. Da questa tragedia ognuno di noi, aggiunto, deve trarre il giusto insegnamento, ovvero che non possiamo essere indifferenti di fronte a tutto questo. Un momento difficile per tutti, ma anche un momento per ribadire impegno e speranza. Certamente è uno dei momenti più difficili, quello poi ovviamente dell'ultimo saluto, che però vista la partecipazione e il calore che la gente ha manifestato e dimostrato in questi giorni e oggi al funerale, penso che sia un momento che possa anche trasformarsi in un momento di speranza con un messaggio positivo per tutti noi. La figlia Giannini ha assistito alla cerimonia con l'amica di Maria, Evaneige, non in prima fila ma proprio accanto al feretro. Poco più in là, i sindaci di Barga e di fabbriche di Vergemoli ed altri sindaci giunti a testimoniare il cordoglio della Valle del Cerchio. Dopo l'esequo in un clima di tristezza e commozione, la salma è stata portata al cimitero di Loppia, dove Maria è stata sepolta. Per la figlia e per l'amica del cuore, un momento di grande sgomento e commozione. Tutto è, non solo per noi, tutto, l'ho visto che stiamo, tutto è emocionato, emocionadissimo. E per lei, mamma mia, solo lei per dire cosa, capito? Per lei è sua madre, capito? Solo lei. Vero, mia cara, che cosa tu dici di questo momento, perder una madre, né? Una cosa, né? Perder una madre, assim, brutalmente, né? Tirare un pedaço di me, né? Tirare un pedaço di me. Lei hanno levato un pezzo di lei, capisci? Lei non aveva, è per una mamma, è questo il problema. Andiamo avanti, lasciamo fornaci. La cronaca adesso ci porta a Pescaglia, grave incidente per una residente a Pascoso. L'uomo si è infortunato in maniera grave ad un braccio, mentre stava tagliando della legna con una motosega. Fortunatamente il braccio non è stato completamente amputato, l'uomo è stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale. E adesso andiamo ad Alto Passo, sempre per la cronaca, dove i carabinieri hanno arrestato due giovani albanesi di 26 e 28 anni, entrambi con precedenti sorpresi subito dopo il furto all'interno di un esercizio pubblico. L'allarme al 118 è stato dato da una donna che aveva notato due persone incappucciate muoversi con fare sospetto. I carabinieri sono riusciti così a bloccare i due giovani all'esterno del negozio. Dopo aver messo tutto a soccuadro, i due erano riusciti ad impossessarsi però solo di pochi spiccioli ed erano in possesso di una torcia e un arnese per lo scasso che sono stati sequestrati dai militari. Lasciamo la cronaca, voltiamo decisamente pagina. Ci spostiamo a Lucca, dove si è svolta la conferenza dei sindaci per decidere quali saranno le modifiche alla viabilità in centro storico per consentire le riprese del film con Dustin Hoffman. Il Ciac è previsto l'ultima settimana di marzo. Strade chiuse, piazze e parcheggi off-limits. Dal 25 marzo fino ai primi di maggio il centro storico di Lucca sarà il set del film di Peter Greenway con i due premi Oscar Dustin Hoffman ed Ellen Hunt che arriveranno in città la prossima settimana. Le limitazioni saranno a macchia di leopardo con ordinanze che scatteranno giorno per giorno a seconda delle esigenze cinematografiche. Nella sala biblioteca di Palazzo Sanni si è svolta la conferenza dei servizi alla presenza dei rappresentanti delle case di produzione cui hanno preso parte gli uffici comunali e il comando di polizia municipale per analizzare il piano generale della logistica delle riprese che è stato approvato nelle linee generali. Abbiamo riunito la prima conferenza dei servizi degli uffici comunali per affrontare il piano di lavorazione del film di Peter Greenway che verrà girato totalmente nel centro storico. Ci sarà un impatto per i residenti ma l'occasione è mondiale e comunque un piano di comunicazione efficace per far capire dove si potrà parcheggiare, dove non si potrà parcheggiare, le aree dove sarà richiesto anche uno stop in alcune ore al passaggio pedonale. Avremo anche un volantinaggio da parte della produzione che quindi si abbinerà alla comunicazione dell'ente. Sicuramente un film importantissimo per la storia cinematografica della città e siamo sicuri che i lucchesi saranno orgogliosi di poter ospitare questo ciac. Rimaniamo nel comune di Lucca perché dobbiamo tornare ad occuparci di antenne di telefonia perché è scoppiata una nuova protesta tra i residenti, questa volta a Montuolo. Ce ne parla Egidio Conca. Si sono visti spuntare il cantiere con la gru all'improvviso senza sapere nemmeno a cosa servissero quei lavori. L'hanno scoperto dopo. È un ripetitore telefonico autorizzato dal piano antenne del comune, così hanno spiegato da Palazzo Orsetti. I residenti di Via dei Bozzi a Montuolo però non ci stanno. L'antenna è troppo vicina alle abitazioni, dicono. E poi non c'è stato nessun tipo di coinvolgimento dei residenti che anzi non sono stati minimamente avvertiti dall'amministrazione comunale. Perlomeno darci una comunicazione per saperlo. Non dico poi, vuol dire, informare i cittadini non è poi una cosa così complicata. Almeno per avere un'idea di quello. Poi se volevano farlo, io non lo so, quali siano i poteri che hanno o non hanno. Però il rispetto sta anche nell'avere un rapporto perlomeno di comunicazione, un minimo, di sentire anche l'opinione. Poi si parla di democrazia, ma la democrazia sta anche in queste piccole cose qui. La localizzazione dell'antenna è ancora più sorprendente se si pensa che la zona era stata oggetto da poco di una piantumazione di alberi. La cosa strana è che praticamente è stato tutto ripiantumato a questa zona circa un anno fa con piante di alto fusto eccetera. Quindi la zona si prospettava a verde. È stata un'improvvisata, come diceva l'amico di prima, perché nessuno sapeva nulla. Se il piano è stato approvato, quindi nel merito del 12 di dicembre, però nella forma, almeno due o tre mesi prima, ci dovevano chiamare e spiegare il perché dove in una zona ripiantumata e a verde ci veniva messa poi invece un'antenna della telefonia mobile. I residenti adesso vogliono assolutamente un incontro urgente con il sindaco e sono pronti a partire con una raccolta firme. Siamo preparati per fare la raccolta firme perché siamo contrari, perché è troppo vicino alle case. Noi qui abbiamo già la ferrovia che passa qua e quindi insomma mi sembra che di radiazioni e roba del genere già ce ne abbiamo anche troppe. Poi oltretutto qua c'è il parco giochi dove giocano i bambini quindi non mi sembra la location adatta. Voltiamo decisamente pagina. La Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca lancia un progetto che prevede diverse attività di inclusione rivolte a 1500 ragazzi disabili del territorio. Si chiama CAMIN, Comunità Empatiche per l'Inclusione ed è un percorso educativo rivolto a ragazzi con disabilità a rischio povertà che tiene insieme scuola, servizi e famiglia. Si tratta di uno dei 25 progetti, tra le oltre 250 proposte arrivate da tutta Italia, finanziati da Con i Bambini, l'impresa sociale che attua i programmi del Fondo Nazionale per il contrasto alla povertà sostenuto anche dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. È stato premiato veramente per la capacità che ha dimostrato a livello nazionale di essere competitivo con altri progetti che sicuramente erano altrettanto validi. Quindi a maggior ragione questo è estremamente significativo. A conferma ancora una volta della capacità che hanno le associazioni locali, quando veramente si mettono insieme riescono a portare dei progetti estremamente significativi e importanti. Grazie a un finanziamento da 550 mila euro la cooperativa La Gardenia insieme ad altre 20 realtà del terzo settore potrà coinvolgere in una serie di attività che spazzano dal teatro allo sport 1500 ragazzi con disabilità e a rischio povertà della Valle del Serchio, della Piana di Lucca e della Versiglia. Questo progetto porta direi un valore aggiunto cioè quello di dare centralità alla persona costruire le reti fra tutto quello che esiste sul territorio che sono tra l'altro i valori portanti della nostra Fondazione per la coesione sociale e creare comunità empatiche. Per 75 ragazzi, 25 per ogni zona della provincia saranno attivati interventi strutturati della durata di tre anni. Rimaniamo a Lucca ma ci spostiamo a Catro piccolo centro abitato sopra Santa Maria del Giudice perché c'è un appello particolare dei residenti a Palazzo Orsetti. Sentite. I residenti di Catro chiedono che il parcheggio del paese venga riservato al loro uso esclusivo. Il comune prende tempo prima di prendere una decisione. Questo l'esito del primo incontro dopo mesi di richieste inascoltate tra una delegazione di residenti del piccolo centro abitato sopra Santa Maria del Giudice e l'assessore ai lavori pubblici del comune di Lucca Nicola Bucchignani. La mancanza di un numero adeguato di stalli di sosta in paese è un problema che si è aggravato particolarmente negli ultimi anni. La localizzazione di un parcheggio alternativo dovrebbe essere contenuta nel piano operativo ma nel frattempo i residenti chiedono una soluzione tampone anche in vista dell'estate periodo nel quale la situazione si aggrava particolarmente a causa dell'arrivo dei villeggianti. Da qui la richiesta di riservare l'unico parcheggio una trentina di posti auto a chi effettivamente risiede in paese almeno fino alla concretizzazione di una soluzione definitiva. Il comune, come detto, al momento non ha preso nessuna decisione e l'assessore dovrà confrontarsi con gli uffici per valutare l'ipotesi. Nel frattempo però i problemi rimangono e si traducono in una sorta di limitazione della libertà personale visto che diversi residenti in alcuni casi hanno rinunciato ad uscire di casa dovendo utilizzare l'auto per timore di non ritrovare posti liberi al parcheggio. Un'ultima ora la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni ha firmato a Firenze l'accordo per lo sviluppo e la coesione tra governo e regione toscana. Complessivamente arrivano in regione oltre 500 milioni di euro su Lucca vengono finanziati i progetti per il secondo lotto dell'asse suburbano della riqualificazione delle strade annesse del tratto da via dei Pellegrini e via dei Sillori nella frazione di nave. Successivamente ha annunciato il Sindaco Pardini sarà inserita nell'accordo anche la realizzazione del nuovo Palasport. E adesso una bella notizia che viene direttamente dall'ospedale San Luca si parla spesso di denatalità invece è baby boom nell'ospedale lucchese perché ci sono sette neonati in meno di 24 ore. Sette neonati in meno di 24 ore è record all'ospedale San Luca dove tra le 8 di sabato e le 5 di domenica il reparto di ostetricia e ginecologia ha registrato un vero e proprio baby boom. Ad agliettare le famiglie e costringere agli straordinari lo staff della nursery sono stati 3 femminucce e 4 maschietti. Il direttore della struttura Gianluca Bracco e la coordinatrice delle ostetriche Maria Paola Belluomini hanno voluto ringraziare medici, ostetriche, infermiere e operatori sociosanitari che hanno avuto molto da fare ma hanno dimostrato la consueta competenza e disponibilità. Il baby boom dello scorso weekend conferma il trend positivo del San Luca dove a fronte del calo demografico a livello nazionale nel 2023 sono avvenuti 894 parti di cui alcuni gemellari per un totale di 905 nascite. Il presidio lucchese ha registrato un aumento delle nascite del 4,3% rispetto al 2022 quando i bebè erano stati 861. La cavalcata del cavallo in plastica l'installazione di cui vi abbiamo parlato nei giorni scorsi realizzata a piano di Coreglia è stata inaugurata con una grande festa a Firenze. Ce ne parla Luca Galeotti. È stata festa grande a Firenze per il vernissage della scultura Marco Cavallo del XXI secolo opera della quale vi abbiamo parlato nei giorni scorsi in quanto è stata interamente realizzata in Valle del Cerchio creata dall'artista Edoardo Malagigi e realizzata in plastica riciclata da R3 Direct azienda di piano di Coreglia. L'opera è stata presentata di fronte ad un bel pubblico e dalle autorità fiorentine ed ha riscosso anche tanti apprezzamenti. Il tutto nell'ex manicomio di San Salvi il giorno 12 marzo nel centenario della nascita di Franco Basaglia. L'opera era stata commissionata dalla compagnia teatrale di Achille della Balanza nel segno dell'opsicata veneziano che realizzò il superamento dei manicomi in Italia. C'è stato molto interesse anche per l'aspetto ecologista di questa opera che per la sua struttura principale nasce dai polimeri della plastica riciclata attraverso la stampa in tre dimensioni. La plastica riciclata che prende nuova vita e dà voce all'arte in un perfetto esempio di economia circolare grazie anche all'impegno di un'azienda della Valle. È scomparso all'età di 73 anni Alessandro Tommasi è stato segretario generale della CGL della provincia di Lucca negli anni 80 successivamente è stato segretario comunale del partito comunista lucchese consigliere comunale e membro della segreteria dell'allora presidente della regione Marco Marcucci i funerali sono in programma giovedì 14 marzo alle 16 alla Croce Verde di Lucca in Via Romana. Ed è tutto per questa edizione dedicata a Lucca alla Valle del Serchio grazie a tutti voi per averci seguito fin qui adesso una pausa e poi linea allo sport arrivederci